Ragazze, possiamo cominciare, aprite il manuale dove ci siamo fermati, cioè a pagina 347, pagina 347. E vedete questa statua, che si chiama Operatore Ecologico. E quindi, diciamo, che c'è una professione, ecologicamente operata. Per fotografi, come vedete, qual è la nostra professione. Allora, ora vi mostro l'evoluzione, la nazività di questa professione. Quindi, некоторое время назад, mi nazivali таких людей, spazzini. No, dormite, da? Spazzino, происходит ad glavola spazzare. Spazzare, значит, misti, metati. No, l'hova, non è funzionale, eh? Beh, e do s'ich por nazivam i'hi' таким образом. No, mezzo nami, ne per nimi, per nimi, per nimi, si trecano spettum i'izita. Tadda, nazvanje izminilas. Ani stali takimi. Ne turbini. Ad nazvanja Municipalnoi usluge. Ciao. Takaja Municipalno usluge nazyvaitsa Nettezza Urbana. Nettezza takas kazat cistata. A urbana značit garatskaja. Peskaia. Peto. Nett, et zapadet, urb, nett turbino. Mi gavrim a... A čem to čin'interesno? Ma zo, ad nositよね. Če vuol įvito intreesno, no, zdiš, nash nagavni geroj, ette, de, 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 duarieni. Tiš? No. Duarini. Duarzik, pastit. Ah, duarini. 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 Nenoshka pa-durgomu. Una firma per piacere, Naste? Sì Siamo a pagina 347 del manuale Bene, allora Aspetta Ad spazio E ti liudi stai nei turbini No, poi Prascirocca questa premia E a piacere Alla stessa Un'esitina Eta Prasciro esmode E anni stali Scias Može visto scora Moda опять Izmianza Ciao Anni stali takimi Operatore Ecologico Interessno, che nazvani Postepenzi Ma Profesia Vostante non Taka E Bene Mi Irina Nakodimsia Papo Ocennico Nasta Inizia Trista Sor Sì Puoi prestarmi una penna? Eh sì Puoi prestarmi una penna? Sì Lo chiedi a me Riccardo? Io devo Prima presto Bene Ciò mi metti la penna e cambia Eh Eh No Grazie Mi è venuto Posso? Ok Tu mi metti la penna Per il genere Ok Ok Allora Poietamo Siaz Budim Sian 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 Citat Opisani Etova Cieloveca Eto Cielo Cielo Eto Cielo Cielo Eto Cielo Eto Cielo Eto 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 per le persone che è vicino. La scuola Media è una bambina per la diventarea e una brava segretaria. A tu cosa che hai, è così grande. Quanto? Un po' un po' un po'. No, no, no. Il mio giornale è un giurale e ha un giurale. Ah, ha un giurale di scuola. B, attestate. Il parola che avrà attestate a scuola. Sì, è vero, però è vero che è un giurale di scuola. Beh, per ogni cosa è il suo soggetto. Beh, Nastia. 30 anni è sposata in madre di una ragazzina di 11 anni che sogna di diventare fisico nucleare. Beh, già interessanti, è il suo soggetto. Perciò, per esempio. 30 anni, è una madre di un ragazzino di 11 anni che sogna di diventare fisico nucleare. Fisico. Beh, ok. Prego, Natalia. Beh, allora. Prima di prima di provare, io vorrei dire, che essere e poi in gamba, ma da slovo ne znači? BIT NA NA NAGE Uspiešni Ma, uspiešni, kruto člověk, ktorý spravitse v raznih konkretnih situacijah Kreativni Bah, kreativni mi krežda slišku Slišku Kruto, kruto Kruto člověk 5 Kruto. Kruci B Kruč To Kruč consumer Kruč Krati il mio no io sono piaciuto e mi dice ma... non so guarda questo luci cisti tu scrivi che è in Bombay non è che... l'italiano si lavora non lavora ma... non so mai allora sai qual è il problema no 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 allora, sapete qual è il problema? il problema è che in Italia c'è questo fenomeno che si chiama disoccupazione ma in Italia è un problema molto più serio va bene, è un nastro che è il problema in Italia c'è la disoccupazione grande, stiamo parlando dati del giornale di oggi l'11,7% fra i giovani la disoccupazione è arrivata a questo livello il problema è serio quindi è ovvio che quando c'è un lavoro questo non è un lavoro pulito però è un lavoro è un lavoro fisso, stabilna e rabotta bene, ok Gianni, provoci adesso, c'è il nome di Clelia? sì, è il nome di Clelia non crede che per una donna fare questa lavoro sia un posso passo passo indietro anzi crede che sia una vittoria bene sì, sì, è il nome di Clelia che per una donna fare questa lavoro sia un po' sì, è il nome di Clelia Pobede di henrico popolo? Ma off4 sono vero. Cuna qu have pockets e de mia думa... Bene, e плюс Marina? A Roma sono 7 mili operatori ecologici. 650, sono donne come il compito di fare gli stessi lavori pesanti degli uomini bene il tempo di 7000 World Cup si per tutti gli uomini si no no il compito è una domanda è una domanda il compito abbiamo il mio slovo di assobere le nostre si te stessi 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 esatto esatto ok adesso l'interview citiamo le questione di giornalisti ok qual è la cosa che le dà più fastidio nel suo lavoro bene dare fastidio a qualcuno è da mesciate a qualcuno che che vi mi 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 buona bene Giulia non certo al cerne alle quattro e mezzo del mattino prima che si zveino mio marito e mio figlio si non non così ma non 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 Sì. Sì. Ketamo? Ja? Privicci. Privicla? Ketamo ja privicla. Bene. Ah, perché? E' uno di questi parole, che mi ne davvero parlavano. E come è? Prie uslovi che? Prie uslovi che mia maccherina è... Maschka, Maschka, Maschka. Prie uslovi che mia macchina è sempre... Comportata di mano? Pod rucuoi. Allora, guardate. 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 Maschera. E mascherina. E se la ITE cosa sia quella città della macchina. E se la faccia, battate. E la cor suspiciousamente. E la faccia della macchina. E la faccia? E la faccia che si chiama la tematpetto alla luce? Agreggate. mascherina. E anche la parte della parte del vore. Non è vero. Ci sono delle mascherine, che solo la parte della parte della parte del vore. Se la parte della mascherina si la parte della parte del vore, si la parte della mascherina non è vero che le mascherine non è vero che potrebbero solo la parte del vore le mascherine possono chiamare e le mascherine. E le mascherine è un personaggio un personaggio carlecchino pantalone truffaldino eccetera maschere non è nascita ma non è un personaggio va bene bene ma non è un personaggio 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 passiù non è un personaggio non è un personaggio va bene bene marina stato civile sposa bene bene irina titolo di studio abrasavanie attestate strenno scuola non è un personaggio non è un personaggio ah un diploma di scuola media ok giulia professione l'operatrice l'operatrice ecologica bene nastia caratteristiche del lavoro caratteristiche del lavoro chi ha il lavoro la lavoro pesante pesante un lavoro pesante si odori cattivi con odori cattivi si bene progetti da bambina stat stat agente diventare chi? segretaria abbratitevi in i mani e dove c'è K un A G segreto e poi c'è da segretaria segreteria G bene ok diventare una brava segreta segretaria Gianna completate sapone di Clella fa l'operatrice ecologica ma valeva si fare la segretaria bene Marina è intelligente in gamba si carina e sportiva bene Irina è è sposata e ha un figlio bene è sposata e ha un figlio Giulia pensa a che per una donna fare questo lavoro sì fare questo lavoro sia una vittoria sia una vittoria Nastia alla gente chiederebbe di essere un po' più civile civile va bene e in dimosti è una altra è una è una 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 pilota è una Nome Giuliana, età 39 anni, stato civile nubile, titolo di studio laurea, professione pilota di una compagnia aerea privata. Caratteristiche del lavoro, vita movimentata, doslovna, paddvigna je žizna. No, come сказать. Pagnatno. Ano, nika da ne stanavi, vezz. Ve, viaggi, pagnatno, nuove conoscenze, nuove snakomstvo, eh? Stress fisico, perché oggi dormi a Hong Kong, domani dormi a Melbourne, dopodomani dormi a San Paolo do Brasil. Beh, poco tempo libero. Beh, progetti da bambina, fare l'insegnante di matematica. Madonna, strascicata. Beh, cadiamo di domenica. L'uomo può essere sposato. E la donna può essere sposata. Non è tappagnata. Genata di San Paolo. Sono sinonimi coniugato e coniugata. E se vi pomnite, quando noi studiavamo, citavamo una storia, dove... Adesso, un po' è un progetto. Un po' è una storia, un po' è un progetto, non è un progetto. e per questo non si ritrovi. La stagione nazivata l'avventura di due coniugi, due suprug, coniugato e coniugato e coniugato, 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 sinonimo, per questo, per questo, l'avventura di due coniugati ma in documenti è scritto più oficialmente. Sì, questo è giunico o giunico. Antonimi, ch'è li be, non è giunico, non è giunico. 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 Non è giunico, non è giunico. Non è giunico. Mentre mi ha fatto, sì, beh, non è giunica, Ma è giunico, Ma la stagione non è giunico. Non è giunico. Non è giunico. Non è giunico. Perché è giunico, è giunico. Ho giunico. È reale? Perché? Eh, è un'olutionssturi. Il po' impararre. Dzytella! Di te Bennu! Di solito! Ed è un cultured di cantorio. Questo è un grande selbst! Questioni è un'esper biblioteca in wanna essere riavo « bulde la voglia». a tutti i nostri stessi e noi possiamo aggiungere anche le cose e' un po' di stagione e' un po' di stagione e' un po' di ruo è un po' di ruo ecco un po' di ruo bisogna svantivare le possibilità Allora, l'Italia è vedova, la vedova nera. Per favore di risposta, gli italiani vivono in Italia, non rispondiamo, non rispondiamo, non rispondiamo, non rispondiamo. Non rispondiamo, non rispondiamo, non rispondiamo, non rispondiamo. Ma il divorzio in Italia è apparso negli anni 60. Prima non c'era Il Papa, il capo della Chiesa Cattolica Sta a Roma In Italia è una grande influenza La Chiesa Cattolica era contro il divorzio Il Parlamento italiano finalmente negli anni 60 Ha votato una legge per il divorzio Poi però i cattolici hanno fatto una campagna politica Per chiedere un referendum Per annullare la legge Dopo, adesso non mi ricordo esattamente Ma mi sembra che fosse verso il 68 C'è stato un referendum E gli italiani hanno per fortuna confermato la legge La legge c'è Legge Tazacone La legge c'è Però Gli spettatori in sroc Gli spettatori in sroc Gli spettatori chiedono di razzurire E' proprio giusto All'inizio erano tre anni All'inizio erano tre anni Allo Ete spettatori in sroc Nazivai-sa separazione Oddalene Gli spettatori in sroc quindi con la polizia? no! possono fare qualcosa di quattro anche con le persone che vogliono ma se si vogliono si vogliono rinforzare bisogna rinforzare la procedura non rinforzare la procedura per esempio rinforzare la scuola si chiede la separazione quindi separato e separato quasi vivono отдельmente vivono in processo ma non rinforzare 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 ma possono rinforzare è molto utile è molto utile sono separato poi vediamo e poi quando si si aspettare se non si 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 divorzare no no oi? ma che è comune con la madre? come è come la famiglia? non, però i ragazzi che da poco dopo il rischio dopo il periodo della morte però io ho chiamato io ho chiamato io ho chiamato allora, non è il paese non è un anno non è un anno o non mi ha fiduato? e penso che trovo in un'unico ora un'unico ora è unico veramente? ovviamente 9 mesi non è ancora una ragione dicono quindi non lo so facciamo la tua lingua ok